Adesso vi presentiamo la Big Shot Express. Questa macchina è la versione elettrica della premiata Big Shot, che include un paio di tappetini da taglio di misura standard, un adattatore per fustelle sottili e una piattaforma lunga. Funziona nello stesso modo della Big Shot, però invece di girare la manovella, solo bisogna premere il bottone e c'è nessuna forza di esercitare. Questa macchina offre i stessi grandi risulti della solita Big Shot. La Big Shot Express è compatibile con le fustelle e le cartelle per gofratura SISX fino a una larghezza di 15.24 cm. È molto utile per persone con mobilità ridotta. C'è una protezione integrata con i sovraccarichi, consente di evitare incepamenti del materiale. Gli ingranaggi sono interamente di metallo per garantire maggiore durata e resistenza. La tensione di esercizio è ridotta per limitare il consumo energetico e garantire maggiore sicurezza. Il pannino si può infilare attraverso la macchina da entrambi i lati. L'interruttore di accensione funziona solo quando la macchina è predisposta per il taglio. Il filo è ammovibile per una maggiore praticità di conservazione e trasporto. Adesso vi faccio vedere come la macchina funziona con le fustelle Finitz, per esempio. Le Finitz sono fustelle detagliate molto sottili. Per questo tipo di fustella avremo bisogno di due tappetini da taglio trasparenti, una piadaforma lunga e la radattora per le fustelle sottili. La cosa molto utile è che le istruzioni di utilizzazione sono dettagliate sulla piadaforma. Adesso prepariamo il panino specifico per la fustella. Prendiamo la pannaforma, la radattora, il piano da taglio, poi mettiamo il cartoncino, poi la fustella Finitz, lama rivolse verso il bagno e chiudiamo con l'altro piano da taglio. Adesso infugliamo il panino attraverso la macchina premendo il bottone. Come l'ho detto prima, potete fare passare di nuovo il panino attraverso la macchina per assicurarvi di avere un taglio più preciso. Una volta che avete staccato i pezzi di cartoncino della fustella avrete questo risultato. Un taglio perfetto ogni volta. Adesso vediamo come utilizzare la macchina con una cartella di gofrattura. Come l'ho detto prima, se vi confondete su come utilizzare i diversi prodotti, ci sono le istruzioni meravigliosamente illustrate sulla piadaforma. In questo caso abbiamo solo bisogno della piadaforma e dei due tapetini da taglio. Allora, usiamo la piadaforma, un piano da taglio, mettiamo il cartoncino tra la cartella di gofrattura, chiudiamo così, poi metto la cartella tra le due pene da taglio, inseriamo il panino nella Bicciola Express e premiamo il bottone. Come l'abbiamo visto prima, potete fare passare il panino una seconda volta. Solo dopo due passi attraverso la macchina ottenerete una splendida gofrattura. Ora diamo un'occhiata a come la macchina funziona con una Bicciola Express. Le Bicci hanno una lamina di acciaio e proprio per quello possono tagliare varie strade di tessuto o cartoncino. La tecnologia Bicci taglia con facilità e precisione feltro, pelle, cartoncino, tessuto, balsa, plastica e tant'altro. Con la fustella Bicci non c'è bisogno di una piadaforma. Ci vuole solo un piano da taglio. Allora, prendiamo un pezzo di feltro i due piani da taglio e la fustella Bicci. Adesso prepariamo il panino. Prendiamo un piano da taglio sopra mettiamo la fustella Bicci con la lama rivolta verso l'alto un pezzo di feltro assicurandosi che il feltro copra bene le forme che vogliamo tagliare e poi il secondo piano da taglio. Inseriamo il panino nella Bicci d'Express e premiamo il bottone per passarlo attraverso la macchina. Si può anche fare passare il panino da entrambi i lati. come lo vedete il taglio di queste forme è perfetto. Le forme sono adesso pronte per essere utilizzate per le vostre creazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.